Il governo Renzi continua dritto per la sua strada con il decreto salvaladri. La Lega Norda cerca di mettergli il bastone fra le ruote in tutti i modi, perché? Perché è un decreto che grida vendetta. È il decreto salvaladri, è il decreto con il quale il governo Renzi e la sinistra depenalizzano 160 reati. 160 reati gravi, gravissimi, come il furto, la truffa, l'appropriazione indebita, la violazione di domicilio, l'omicidio colposo, l'omissione di soccorso, rischiano di essere depenalizzati. Quindi chi commetterà questi reati potrà non essere più punito. Con questo decreto viene garantita l'impunità ai delinquenti, è un salvataggio, una ciambella di salvataggio a ladri e criminali, è un colpo mortale alla sicurezza, un colpo mortale al lavoro delle forze e dell'ordine, una delle più grandi vergogne in materia di giustizia che questo governo ha approvato. Noi siamo soli contro tutti a tentare di fermare questo decreto e io credo che questo, che è il governo dei 5 svuotacarceri, della depenalizzazione di 167 reati, è il governo che ha depenalizzato lo spaccio di droga di lieve entità, è il governo che regala 8 euro al giorno ai criminali, è il governo che incentiva le aziende a assumere i detenuti e gli ex detenuti, questo è il governo che dà 75 giorni di libertà a chi commette reati, credo che si stia scrivendo una delle peggiori pagine e noi solo contro tutti stiamo cercando di fermare questo decreto per garantire sicurezza ai cittadini e quindi è un principio che per noi è sacrosanto e che è il principio della certezza della pena.